ciao ragazzi e ragazze allora volevo prima di iniziare il tutto il discorso diciamo volevo comunicarvi soprattutto per quelli fedeli che mi seguono in live che ho portato il computer in assistenza così così vediamo di risolvere quel maledetto problema che mi si blocca mentre sono in live dovrebbe essere un problema di di scheda video di ram o roba varia insomma il mio computer è vecchio e va 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 come la nostra juventus ogni tanto aggiornato è un pc che ha più di 10 anni quindi ci sta ci sta nell'attesa magari farò qualche live col telefonino vedremo un attimo vedremo un attimo poi 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 allora questa mattina sono state ultimate le visite mediche di capitano wiston americano mckin ormai si può definire definitivamente un calciatore della 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 juventus però io volevo aprire una postilla riguardo al video che ho fatto ieri visto quel qualcuno mi ha attaccato senza capire un cazzo come al solito io non è che sto criticando l'acquisto di mckin critico soprattutto le sue 91 presenze nello schalke 04 e 4 gol con questo cosa voglio dire che si stanno continuando a prendere soprattutto a livello di centrocampo calciatori che non segnano praticamente mai mai e questo è un handicap che abbiamo da molti 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 anni ormai è veramente che tutto il nostro centrocampo tutto in tutte le competizioni coppitalia champions e campionato ha fatto 10 gol che è un risultato veramente veramente schifoso per una squadra che lotta per tutti gli obiettivi quindi questa è una critica che faccio alla società da molti molti anni ormai quindi noi abbiamo bisogno di gente che la butti dentro perché vidal 10 gol li faceva da solo pogba lo stesso e vidal ragazzi qualcuno mi è stato detto anche vidal quando l'ha preso la juve non lo conosceva un cazzo di nessuno balle vidal già all'evercusa dimostrava tutto il suo valore che poi vabbè alla juventus esploso definitivamente ma anche all'evercusa dimostrava di avere grandi qualità e soprattutto segnava segnava quindi secondo me noi la prossima stagione giocheremo sempre con il 4-3-3 perché kuluseski quindi secondo il mio punto di vista è più un ala che un centrocampista quindi molto probabilmente il nostro attacco sarà disposto da ronaldo a sinistra di bala al centro e kuluseski a destra mentre kuluseski ti può garantire se mi auspico che giocherà da titolare un determinato come si dice potrà garantire parecchi gol se sarà quello di parma io spero anche meglio di bala no perché di bala l'anno scorso ha fatto 11 gol ma perché non è una punta quindi è molto importante perché se voi ci fate caso quando ronaldo prende palle scala a sinistra e cross in aria visto che di bala non è una punta non c'è un cazzo di centrocampista che si inserisca dentro e la butti in porta faccia gol quindi noi abbiamo bisogno di un pasalic di un malinoski di gente così e ormai abbiamo questa pecca ce l'abbiamo da troppo tempo quindi dovrà essere brava la società visto che soldi non ce n'è di scovare un giocatore del genere che potrebbe essere De Paul vi faccio un nome che però mi sembra che meno di 30 a parte che dovrebbe rimanere all'Udinese ma con meno di 35-40 milioni non si muove e questo è un problema ragazzi che va risolto soprattutto in Europa perché i centrocampi fondamentali i gol dei centrocampisti sono fondamentali ed io spero mi aspico che la società lavori anche anche per questo perché i vari nuovi acquisti Mekin e Arthur e anche Betancourt che c'è già ormai da 2-3 anni a livello realizzativo fanno poco garantiscono pochissimo quindi gente agnelli parateci lavorate e portateci un paio di centrocampisti che la buttino dentro che noi abbiamo bisogno di questo poi per il resto è tutto abbastanza fermo ormai sono due settimane che si parla di sto zeko staremo a vedere cosa succede ancora non si è mosso nulla le varie pippe che dobbiamo vendere e piazzare miracolosamente a qualcuno sono sempre qua e ce l'abbiamo sempre sul groppone questi ragazzi sono veramente 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 dura venderli veramente veramente dura però staremo a vedere cosa succede niente dai like al video iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche su tutte e sempre e comunque ragazzi fino all'iscrizione farza Juve grazie a tutti grazie a tutti